Buongiorno a tutti. È con particolare e personale piacere che ho accolto questa mattina la Presidente Halonen, Presidente della Repubblica di Finlandia, alla quale mi legano antichi rapporti di collaborazione di amicizia anche in sede europea. La Presidente Halonen restituisce la visita di Stato da me compiuta a Helsinki esattamente due anni fa e abbiamo avuto modo questa mattina di ricordare i precedenti dei nostri incontri di allora e di aggiornare, per così dire, i punti di vista dei due capi di Stato sulle questioni sia dei rapporti bilaterali tra Italia e Finlandia, sia sulle questioni di politica internazionale che coinvolgono e impegnano entrambi i nostri Paesi. Per quello che riguarda le relazioni bilaterali siamo partiti da una sottolineatura ancora una volta del livello di eccellenza che le caratterizza, aggiungendo alla Presidente Halonen quasi un po' scherzosamente, che talvolta quando le relazioni sono molto buone ci si dimentica che sono molto importanti. La tendenza è piuttosto a concentrarsi sulle difficoltà che si hanno nelle relazioni con altri Paesi per tanti motivi, ma noi invece non ci stanchiamo di avere buone relazioni con la Finlandia e vogliamo darvi ulteriore impulso e abbiamo discusso in particolare delle possibilità di sviluppo della collaborazione in alcuni campi e che vorrei dire in alcuni campi in cui la Finlandia notoriamente eccelle. Noi abbiamo molta ammirazione per quelli che sono gli autentici primati conquistati anche di recente dalla Finlandia. Nel campo della educazione, della ricerca, dell'innovazione, della qualità della vita, anche degli indici di sviluppo umano e di vivibilità, la Finlandia è veramente ai primi posti. Noi ce ne compiacciamo, ne vogliamo anche trarre utili indicazioni per gli sforzi da compiere nel nostro Paese e per le possibilità quindi di particolare cooperazione in questi come d'altronde in altri settori. La Presidente Halonen è accompagnata dal Ministro della Cultura finlandese e questo ha anche un particolare significato perché dimostra quanto profonda sia l'attenzione degli amici finlandesi per la nostra storia culturale, per il nostro patrimonio. Siamo molto impegnati anche in questo spirito su grosse questioni aperte a livello internazionale. Per esempio abbiamo avuto un ottimo scambio di opinioni con la partecipazione del Ministro Frattini sulle prossime scadenze internazionali per quello che riguarda le problematiche dell'ambiente e in particolare problematiche dell'azione da condurre di fronte al fenomeno allarmante del cambiamento climatico. Siamo insoddisfatti di come finora l'Europa abbia potuto contribuire anche a Copenaghen a questa discussione e abbiamo posto un particolare accento sull'impegno che i nostri due Paesi possono portare avanti per garantire il successo dei prossimi incontri internazionali quest'anno a Cancun e l'anno venturo in Sudafrica. Abbiamo passato in rassegna molte altre questioni, abbiamo riscontrato una forte comunanza di vedute anche sull'approccio da seguire nella situazione così complessa e critica dell'Afghanistan. Entrambi i nostri Paesi, perché voi sapete che la Finlandia partecipa per alcuni aspetti fondamentali allo sforzo comune e per quegli aspetti che riguardano il building institution, per quello che riguarda l'addestramento di forze di polizia, lo stabilimento di basi solide per uno Stato di diritto, ci muoviamo esattamente nella stessa direzione e con lo stesso spirito. La nostra conversazione nella fase conclusiva si è poi anche in modo particolare concentrata sulla situazione in Medio Oriente che abbiamo seguito e sempre seguiamo sia l'Italia che la Finlandia con grande attenzione. Il Ministro Frattini ci ha ragguagliato anche sull'impegno che sarà meglio calendarizzato non appena le circostanze lo renderanno più utile. Una visita, una missione di cinque Ministri degli Esteri dell'Unione Europea a Gaza, una missione a cui noi e il Ministro Frattini in particolare ci auguriamo possa essere associata anche la stessa Finlandia. Per quello che riguarda le questioni dello sviluppo economico e in generale le questioni del ruolo dell'Europa abbiamo anche qui trovato gli stessi accenti. Noi siamo assolutamente convinti nello stesso modo, nella stessa misura Italia e Finlandia che le chance per l'Europa di giocare il ruolo che le spetta anche in un mondo così fortemente cambiato e in via di cambiamento riposano sulla sua capacità di agire e di affrontare i problemi in modo univoco e concorde e di parlare con una sola voce nei fori internazionali. Siamo quindi entrambi forti partigiani di un sviluppo ulteriore del processo di integrazione europea, superando limiti, angustie, se non egoismi di carattere nazionale che ancora intralciano questo cammino e abbiamo anche in modo particolare voluto sottolineare come siamo insieme protagonisti di alcune dimensioni fondamentali dell'impegno internazionale dell'Europa e della stessa crescita della Unione Europea in quanto tale. Abbiamo parlato sia della dimensione nordica che ha per protagonista la Finlandia, sia della dimensione sud-mediterranea che ha tra i suoi protagonisti d'Italia. Infine vorrei aggiungerlo, non abbiamo trascurato anche nella sua complessità il tema della situazione che si è creata in alcuni paesi nuovi stati membri dell'Unione che con l'allargamento sono entrati a far parte della nostra famiglia. Lì i problemi della libera circolazione verso tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, i problemi delle minoranze e i problemi nello stesso tempo della lotta contro traffici criminali di ogni sorta presentano carattere di particolare complessità ed acutezza e ci impegnano a ricercare impostazioni e soluzioni comuni. noi saremo con la presidente alone della delegazione finlandese non soltanto questa sera per il consueto pranzo di stato ma anche domani sera nella sede dello storico istituto finnico al Gianicolo e lì renderemo anche omaggio a un protagonista finlandese dell'epopea garibaldina alla vigilia del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Ringrazio la presidente per l'impegno che ha voluto porre in questo incontro e in questa conversazione. Noi non siamo entrati nel dettaglio di queste questioni. Abbiamo ribadito che è indispensabile avere più iniziativa e iniziativa concreta per favorire un rilancio dello sviluppo come Unione Europea. È un dato di fatto innegabile che l'Italia e la Finlandia anche nelle riunioni di Consiglio europeo hanno sostenuto sempre e molto tempestivamente la necessità di un impegno comune di fronte alla crisi greca e di fronte agli attacchi alla moneta e all'Eurozona. La moneta unica è all'Eurozona. Poi va bene dettagli come quelli delle proposte a cui lei si è riferito non sono stati discursi perché non mi pare che siamo ancora ad un punto di maturazione nemmeno della discussione su questioni di quella natura. Sappiamo che intanto sono stati già adottati degli orientamenti da portare avanti per rafforzare la sorveglianza monetaria, per arrivare all'istituzione anche di nuovi importanti strumenti come il Board per il rischio sistemico e per la vigilanza macroprudenziale. Insomma, tutte misure e strumenti che debbono impedire i ripetersi di crisi acute come quella che ha investito la Grecia. Ma al di là di ciò c'è il problema dello sviluppo di un balzo in avanti nella crescita e ciò non è possibile se non attraverso una forte sinergia di sforzi tra tutti gli Stati membri dell'Unione. Quindi ancora una volta la parola d'ordine è più Europa, più integrazione. Su questo punto la posizione del Governo italiano è stata molto netta, non è stata soltanto una posizione, diciamo, di principio. C'è stata una iniziativa nei confronti del Governo iraniano. Ne ha riferito proprio ieri il Ministro Frattini, che ha ricevuto l'assicurazione che nessuna decisione è stata ancora presa. E quindi, diciamo, la sollecitazione forte del Governo italiano, direi di tutte le istituzioni rappresentative del nostro Paese, ed è posizione largissimamente condivisa dall'opinione pubblica, continua ad essere intensa in maniera da evitare che si compia, diciamo, un atto così altamente lesivo di principi di libertà e di difesa della vita. Va bene, mi si consentirà di non aver fatto ancora in tempo a leggere tutte le interviste di cui sono ricchi i nostri quotidiani. Comunque io conosco il Professor Fittussi, io stima di lui, e la sua è una opinione molto caratterizzata, non isolata, perché posso ricordare che qualche anno fa il Primo Ministro belga, allora Primo Ministro e attualmente capogruppo al Parlamento europeo, il signor Ferostad, ha dedicato un libro esattamente a questo progetto di una Europa governata su basi federali. e noi abbiamo avuto in Italia un pioniere, diciamo, delle battaglie per la Federazione europea nella persona di Altiero Spinelli e abbiamo avuto un precursore nella persona di Luigi Einaudi. Naturalmente tra queste visioni e questi obiettivi molto ambiziosi e di lungo termine e la realtà attuale ci corre una notevole distanza. L'importante è che si muova il processo di integrazione, l'importante è che l'Europa non resti ferma e non torni indietro rispetto a quelli che sono stati i principi ispiratori e i fondamentali pilastri del processo di integrazione. Quindi, senza adesso domandarmi se e quando nascerà un governo federale, io credo che sarebbe molto importante e sarebbe fondamentale per aiutare anche il ruolo internazionale dell'Europa e la crescita dell'economia europea, avere istituzioni comuni più forti, avere più politiche comuni, avere più risorse comuni e quindi andare avanti sulla via dell'integrazione. Grazie.